ecco questa è la casa, le signore stanno come potete vedere stanno a fare il tavolo per fare la cerretta la cerretta ha cupido che è questo signore qua ecco che mi avvicino, c'è Stefano alla finestra che brutta la treccia ecco la macchina dei kossovari questi sono sempre i panni dei kossovari come potete vedere tra un panno e l'altro si vedono le montagne sarde ora è il pergolato della casa ecco adesso come al solito prima di andare al mare ci facciamo la depilazione ci leviamo i peli superflui perché praticamente è brutto andare in spiaggia col pello adesso stoppo perché mi sono rotti i cogliori di vedere sempre la cerretta e il dolore fa male chi bello vuole comparire qualche dolore sì ma mi fa male beh beh fa poco male eh fissio fa male hai voluto tu hai visto i California Dream Man sulla televisione ha detto è fissio voglio un uomo accanto a me come loro e guarda cosa sto facendo per te mi hai fatto fare il culturismo ma fa male fissio non so che fa male amore lo vedo quando toso le pecore come strillano perché le pecore non a caso fanno be mica perché fanno be perché fanno be be dolore ma è vero così il viso che si vede meno la loppeccia sì faccio qui Isabella che è proprio brava guarda ci vi dei gatti da me 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 ehm 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 ahm 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 chiunque vede a questo video dice ma chi cazzo te lo fa' me ci conse mi fa' me ah ma che cazzo le mani avete fatta? che cazzo le mani avete fatta? mi muoio pure i capelli vada vati signorina sti pagami qualche ciaio oddio no te prego ma le ragazze ci stanno